nuovissima serie di ami che allargano la grandissima famiglia degli ami necessari per la pesca del match e del feeder power specialist forniti da un micro barb cioè un micro radiglione sono ami di dimensione molto contenute con dei filo nel gambo molto resistente per cui lo potete lo potremmo utilizzare in questo caso qui da pescare dei grossi caveri o anche delle carpe e hanno la particolarità di avere un piccolo rivestimento esterno che si chiama nano coating che gli dà questo rivestimento aiuta tantissimo alla penetrazione del lama all'interno della bocca del pesce e anche nell'innesco delle esche per cui è un sistema abbastanza innovativo che rivoluziona un pochino il discorso degli ami. Questi ami qui molto molto leggeri sono veramente tanto tanto resistenti tanto che io sto utilizzando adesso per prendere questi cavi di anoni qua che qualsiasi altro amo molto facilmente potrebbero aprirsi ma in questo caso qui anche un amo del 2020 si comporta in una maniera molto discreta. Power Specialist Microbarb Power Specialist Microbarb